Mi ha detto prima di morire, mamma ti prego non farmi morire nell'oblio, voglio che parlino di me. E il desiderio suo era proprio quello di fare uscire questo libro, di pubblicare questo libro. Certe luci non si spengono mai, anche di fronte al pensiero angosciante della morte che si avvicina. Nunzia sapeva che la battaglia contro la sua malattia non avrebbe avuto un lieto fine, eppure il suo sorriso ha continuato a brillare sino all'ultimo giorno della sua esistenza. Racconta anche questo il libro Capitolo Vita, scritto a quattro mani insieme alla mamma Raffaella, presentato nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Barletta. Pagine di gioia e sofferenza che esaltano la vitalità e il coraggio di Nunzia, le giornate in ospedale, tra visite e ricoveri, il ricordo degli amici di scuola, i primi amori, il legame incrollabile con la sua famiglia, sino agli ultimi giorni di quel giugno 2021, in cui Nunzia è volata via a soli 17 anni. Nunzia era speciale, come tutti i bambini, perché lei si è ammalata la prima volta a un anno e mezzo, e quindi come tutti i bambini che crescono, diciamo, con questa vita, sono tutti i bambini speciali, poi crescono e diventano ragazzi speciali. E lei era speciale, era una portata per aiutare gli altri, era poi sorridente, portava allegria dappertutto, era Nunzia. Il libro è anche la testimonianza di un dolore insuperabile, quello di una donna che in meno di un anno ha dovuto affrontare la perdita della figlia e del marito. Io purtroppo in nove mesi ho perso sia mio marito che lei, si sono ammalati insieme. Lei si riammalò a dicembre 2019, mio marito a febbraio 2020. L'accusa più brutta è sapere proprio il futuro, cioè io la guardavo negli occhi come guardavo mio marito, la guardavo negli occhi, guardavo il sorriso suo e dicevo che peccato che non devo vedere più il suo sorriso, che non devo vedere più i suoi occhi, non la devo toccare più e lo stesso era per mio marito. Insomma, non è stato facile, non è facile, non vivo, sopravvivo, perché ho un altro figlio di 25 anni e di conseguenza devo per forza sopravvivere. Nella parrocchia di San Paolo Apostolo ci sono i suoi amici di scuola, il liceo scientifico Cafiero in cui Nunzia si sarebbe diplomata quest'anno, la professoressa Anna De Luca, l'insegnante a cui era più legata e che ha curato la prefazione del libro, Dorrino Caporusso, il parroco che le è stato accanto nell'ultimo periodo della sua vita e che racconta come la fide per Nunzia rappresentasse la speranza che in un altro luogo, oltre la vita, lei e suo padre sarebbero tornati a riabbracciarsi. Questo le ha riempito il cuore pieno di speranza, sapendo davvero che una nostra vita, seppur limitata e troncata come quella sua, ha ancora uno spazio di infinito, profuma di eternità. Ed è bello non solo sperare, ma credere in questo, in Gesù risorto. La testimonianza di Nunzia contiene un messaggio per tutti i giovani adolescenti, amate la vita e imparate a rispettarla. Lei è stata costretta a morire, lei non voleva morire fino alla fine, lei è stata costretta. Io il messaggio che voglio mandare ai ragazzi è di rispettare la vita, rispettatela e rispettatevi. Perdere un figlio forse è la cosa più brutta in assoluto, cioè sopravvivere ai figli è la cosa più brutta in assoluto che può capitare. Grazie.